Come spesso accade dopo il weekend, i dati sui contagi di oggi riflettono il numero ridotto di tamponi effettuati, 13.519. Sono 249 nuovi positivi registrati in Lombardia, ma il tasso di positività scende rispetto a ieri, fermandosi all'1,8%. Nel Comasco sono soltanto tre nuovi casi e una provincia, quella di Mantova, è a quota zero. I guariti o dimessi sono 223 in più. Continuano a calare i ricoverati negli ospedali Lombardi, nelle terapie intensive si trovano attualmente 284 pazienti Covid, 10 in meno nelle ultime 24 ore, mentre negli altri reparti ricoverati affetti dal virus sono 1.473, con un calo di 7 unità in un giorno. Continua a scendere anche il numero dei decessi legati al Covid, oggi sono 7, un dato che porta al bilancio delle vittime da inizio pandemia a 33.478. La situazione nelle province lombarde. A Milano sono 97 nuovi contagi, dei quali 50 in città. Seguono con numeri ridotti Monzebrianza con 36 casi in più, Bergamo con 35, Brescia con 24, Sondrio con 14 e Cremona con 13. Tutte le altre province sono sotto i 10 nuovi contagi. Pavia ne conta 6, Varese 5, Lecco 4, Como 3, Lodi 2 e Mantua, come detto, è l'unica provincia lombarda che oggi non registra nuovi casi.